È interessante notare che da un punto di vista storico la questione di quando sorse la proprietà o comunque da dove derivò la proprietà in particolar modo nacque a partire dal periodo medievale, non già prima o quindi non già a partire probabilmente dall'età romana o dall'età dell'antica Grecia. Questo è un punto importante perché in verità se facciamo una riflessione sul contrattualismo in fin dei conti il contrattualismo quello da un punto di vista quello di stampo filosofico è relegato probabilmente a un certo tipo di questione che si rifà in fin dei conti al tema del diritto. Il diritto in questo caso anche di proprietà di se stessi e quindi anche di accordarsi con il prossimo ma quindi anche proprietà per esempio di ciò che si ha già in natura cioè appunto nello stato cosiddetto di natura. La questione è interessante perché attenzione i romani è vero che non avevano la questione probabilmente da quando appunto nacque la proprietà però avevano la questione del primo arrivato come colui che in fin dei conti deteneva qualcosa. Questo è un altro punto importante perché l'idea che il primo arrivato dovesse detenere qualcosa o potesse detenere qualcosa probabilmente perché era arrivato in quel luogo per primo esisteva già nell'antica Roma ed era già stato sviluppato dagli antichi romani in particolar modo appunto da giuristi come per esempio Ulpiano. L'idea è che che si sviluppò nell'antica Roma tuttavia aveva un certo tipo di condizione relegata naturalmente non già a un certo tipo di contrattualismo però relegata a un certo tipo appunto di inclusività tra i popoli in relazione alla cittadinanza. La questione cominciò a mutare successivamente con il periodo propriamente medievale perché col passaggio dal politeismo al monoteismo si sviluppò un certo tipo di modalità attraverso cui se prima tutto faceva parte appunto dell'impero e bisognava avere un certo tipo di condizione per entrare a far parte dell'urbe romana in questo caso poi una relazione che si specificherà soprattutto con l'impero romano. In verità con l'avvento del cristianesimo per far parte del mondo cristiano bisognerà appunto essere cristiani. In realtà per essere considerati in certo qual modo cittadini bisognerà far parte del mondo cristiano. Questo è un altro punto importante perché poi in tal senso i diversi teorici dell'età medievale cominceranno a chiedersi e tuttavia da dove nasce la proprietà in quanto appunto poi la questione dell'uso di questa proprietà ovvero sia il diritto di poter usare questa proprietà o di dare in prestito questa proprietà esiste. E quindi qual è il significato? Qual è la derivazione di questa proprietà? In realtà già questi filosofi, questi teorici medievali cominciarono a sviluppare un certo tipo di teorie rispetto probabilmente alla questione della proprietà. E' interessante notare in fin dei conti che anche queste teorie cominciarono a relazionare la questione e del libro arbitrio e di Dio propriamente proprietario e quindi anche in certo qual modo onnipotente che fondamentalmente crea dei diritti ed anche in certo qual modo un certo tipo di spiegazione che riguarda anche un certo tipo di potenziale ingiustizia nella realtà dei fatti. Infatti è interessante notare che i teorici medievali da un punto di vista pratico erano naturalmente consci del fatto che esistesse un certo tipo di realismo giuridico ovvero sia una consuetudine del diritto. Però dovevano spiegarla all'interno delle sacre scritture o comunque all'interno di un certo tipo di rilevanza con Dio cattolico, con il Dio cattolico. Per esempio un teorico che si chiamava Uguccione esemplificò l'idea che all'inizio prima naturalmente del peccato originale non esisteva proprietà privata. Pertanto prima del peccato di Adamo e di Eva in verità la proprietà privata non esisteva e quindi in realtà tutto era in comune, tutto era di tutti. Esisteva quindi uno stato di natura ben consolidato, universale, in cui non esisteva appunto un certo tipo di divisione dettato dalla proprietà privata. Tuttavia si arrivò alla consuetudine della proprietà privata perché dal peccato originale in poi, quindi da dopo il peccato di Adamo e di Eva, che tradirono la promessa fatta con Dio, effettivamente si arrivò alla condizione della proprietà privata e successivamente poi questa proprietà divenne successivamente un assenso, divenne di stampo consuetudinario, tale per cui si arrivò quindi poi alla strutturazione di famiglie, si arrivò alla strutturazione di società e si arrivò anche alla strutturazione del potere sovrano, quindi anche dei re e dei cosiddetti domini, tale per cui a un certo punto i re arrivarono ad avere un certo tipo di diritto sul senso del dominio, sulla questione del dominio, tale per cui poi esiste un certo tipo anche di relazione con un potenziale feudo, con un potenziale realtà pratica della terra, tale per cui esiste poi una gerarchia del dominio, in relazione quindi anche di stampo medievale alla gerarchia stessa del dominio, per cui esiste qualcuno che sta superiore a qual'altro ed esiste un patto e una relazione di promesse, tale per cui queste promesse vanno mantenute nella misura in cui si è in una scala di stampo gerarchico. E' interessante notare quindi che, tra l'altro, questo è un esempio interessante perché ci riporta la questione di stampo medievale in relazione pertanto al tema del peccato originale e del libero arbitrio, inteso come appunto l'uomo che prima era il preferito di Dio, poi a un certo punto, quando commise il peccato originale, cominciò in certo qual modo ad essere scacciato da Dio e quindi si verificò un certo tipo di sviluppo pratico, tale per cui la consuetudine arrivò e si collegò alla questione di una nuova ingiustizia o di una prima ingiustizia che portò quindi alla divisione della proprietà e a potenziali scontri sociali che quindi videro nella proprietà un certo tipo di soluzione pratica per migliorare, per risolvere, per trovarsi come soluzione a questi scontri sociali, la proprietà come medium tra le parti per appunto considerare un potenziale tipo di limitazione del conflitto, tale per cui con questa proprietà si riusciva quindi a misurare o comunque a entrare in un certo tipo di reciprocità per cui la proprietà limitava appunto la stessa guerra, lo stesso conflitto tra le parti. Questo è un altro punto importante perché l'idea dello Stato di natura, l'idea dello Stato civile nasce in realtà nel Medioevo, nasce nel Medioevo come modalità d'atteggiamento per cui esiste un certo tipo di divisione tra ciò che c'era prima e ciò che c'era dopo, l'idea pertanto di una giustizia universale che non avesse bisogno di nulla, tale per cui in realtà Dio era perfettamente collegato all'uomo e l'uomo perfettamente collegato a Dio e poi in una situazione di ingiustizia successiva che in fin dei conti è stata sviluppata dai primi due uomini che poi portò l'uomo in fin dei conti a un'imperfezione relegata alla sua condizione e pertanto la proprietà privata serve come fattore sociale, come consuetudine sociale, come mezzo inevitabile e quotidiano per mantenere i rapporti sociali e costituire un senso di collegamento sia per quanto riguarda il diritto sia per quanto riguarda il mercato. Un altro punto importante perché in realtà le prime teorie di stampo contrattualistico nascono anche in questo periodo storico, molto prima di Hobbes, molto prima di Locke, molto prima di Rousseau. L'idea pertanto è che esista un certo tipo di naturalità delle parti in cui in realtà l'uomo esiste e uno stato di natura dove noi possiamo possedere le cose vedrà poi rivalersi a un certo tipo di divisione del lavoro, un certo tipo di divisione della proprietà, un certo tipo di contratti specifici per entrare in relazione nella misura in cui ciò accade. Ovviamente se facciamo il tipo di relazione con l'antica Grecia con l'antica Roma, ciò non esisteva perché in realtà, ripeto, essi non avevano il monoteismo, essi non erano interessati a definire un certo tipo di stato di natura per preparare un certo tipo di tiro e politica atto a spiegare il perché ci dovesse essere questa distinzione tra la naturalità perfetta antecedente e il senso successivo. È interessante notare che altri teorici, come lo stesso Ockham, per esempio, un francescano inglese teorizzò invece una bella differenza tra lo stato di natura e lo stato, in fin dei conti, civile, inteso come un certo tipo però di dioritto naturale o diritto positivo, tale per cui il senso gius naturalista per Ockham era comunque inserito all'interno di una questione già naturale di razionalità tale per cui Dio aveva dato all'uomo il libero arbitrio. Il dibattito francescano sul tema del libero arbitrio è molto interessante perché in realtà si rifarà alla questione della povertà come libertà di non usare le cose o di usarle nella misura in cui Dio ha creato le cose, ma appunto Dio ha creato anche l'uomo e quindi Dio ha lasciato il libero arbitrio all'uomo. Ecco quindi che esiste un certo tipo di ragionevolezza nel fare dei contratti o entrare in collegamento con qualcun altro oppure entrare in una relazione propriamente perché l'uomo è un essere razionale. I medievali sono molto importanti perché meglio sono molto indicativi nel cercare di capire appunto perché e come si sviluppa la concessione di razionalità. Sono anche un po' ambigui da questo punto di vista, cioè per loro esiste un certo tipo di razionalità umana che è stata donata da Dio e che l'uomo può utilizzare, al di là del fatto che a volte può utilizzarla male ma può utilizzare. Quindi esiste una scelta, esiste un libero arbitrio, esiste quindi un diritto d'uso che Dio ha dato, cioè il diritto universale probabilmente generato da Dio che crea il diritto naturale e l'uomo poi può scegliere di servirsi o meno di questa libertà d'uso donata da Dio in relazione poi ovviamente a una consuetudine entrando in quello che Ockham chiama al diritto positivo nella misura in cui esiste quindi un certo tipo anche di consuetudine del diritto, tale per cui appunto poi esistono delle parti anche da rispettare. Esiste quindi una giustizia che in realtà si rifà una razionalità universale che è stata procreata da Dio, in certo qual modo creata da Dio, tale per cui l'uomo sa che c'è una giustizia in relazione alla sua razionalità e quindi un certo tipo di consuetudine di buona condotta. D'altro canto esiste però un diritto positivo relegato anche alla consuetudine che è post naturale, inteso come anche appunto quella consuetudine successiva a quella che Ugaccione chiamerà appunto ingiustizia post peccato originale che in realtà da un punto di vista pratico ha poco senso chiamare giustizia e ingiustizia nel senso che in realtà anche secondo Ockham il gius naturalismo in questo caso è probabilmente un certo tipo di razionalità pratica in cui dobbiamo vivere nel mondo che ci circonda tale per cui in realtà in questo caso noi non possiamo stare lì a parlare tanto di giustizia o di ingiustizia probabilmente perché viviamo in questo mondo e dobbiamo imparare ad accordarci in questo mondo. Ecco perché pertanto dobbiamo imparare a utilizzare direttamente la nostra razionalità per esperire e per d'altro canto sviluppare buone relazioni e per cercare di capire che cos'è quel diritto positivo che riguarda in fin dei conti probabilmente la consuetudine. Quella consuetudine che poi tra l'altro si sviluppa anche in linea gerarchica quindi ovviamente per esempio all'interno del mondo medievale all'interno della questione per esempio dei feudi esiste un certo tipo di gerarchia tale per cui esiste qualcuno che sta sopra qualcuno che sta sotto ed esiste quindi un certo tipo di gerarchia del diritto indicata per cui esiste un certo tipo di rispetto reciproco da mantenere nel diritto. Questo però non significa che qualcuno possa o meno attuare in giustizia tale per cui se ciò accade cioè se l'ingiustizia viene attuata si può appunto nella misura in cui l'ingiustizia viene attuata dichiarare un certo tipo di guerra o d'altro canto opporsi al certo tipo di individuo che ha attuato quella ingiustizia per attualmente praticare un certo tipo di risposta nei suoi confronti perché non ha rispettato il patto non ha rispettato il contratto. Se ci facciamo caso in verità questa idea del non rispetto del contratto e quindi come modalità di opposizione e di risposta a colui che non ha rispettato il contratto al di là del diritto positivo per cercare un certo tipo di giustizia nel senso diritto positivo o diritto del contratto esiste in John Locke. Cioè questi autori infatti dei conti anticipano l'idea Lockeana dell'idea appunto della possibilità di opporre l'esistenza nella misura in cui venga attuata ingiustizia al contratto stesso. Quindi io faccio un contratto con te e tu non rispetti il contratto e esiste pertanto un vincolo che viene appunto non rispettato e pertanto io posso oppormi a te che in fin dei conti non hai rispettato questo tipo di contratto. L'idea è interessante perché questo tipo di concezione vuole sviluppare appunto una relazione tra gli individui che si mantengano in una reciprocità che tuttavia si porti dietro l'idea della proprietà naturale come questione dei termini procreata e sviluppata da Dio nella misura in cui gli uomini vivono assieme e pertanto esiste un certo tipo di possibilità nel diritto naturale di accordarsi nella misura in cui Dio ha dato la possibilità del libero arbitro. È una scelta fondamentalmente relegata alla libertà individuale. D'altro canto la stessa questione della proprietà come modalità appunto anche di rinunciare alla proprietà in questo caso francescana sarà dibattuta per esempio anche nel periodo medievale con Giovanni XXII con Papa Giovanni XXII che criticherà i francescani per la loro scelta di vita e appunto i francescani vorranno vivere appunto secondo il loro motto in relazione al certo tipo di evidenza di San Francesco rispetto alla sua vita volta al volere essere nella povertà assoluta. I francescani esemplificarono assolutamente come Dio in realtà potesse essere proprietario al di là del fatto che Giovanni XXII esemplificò l'idea che e disse che era assolutamente ostile in certo qual modo era eretico chi diceva che Dio non potesse possedere nulla o non possedesse nulla. I francescani invece dissero che già che esiste libero arbitrio e già che esiste comunque un certo tipo di indipendenza nella possibilità dell'uso del diritto che Dio ha dato come possibilità allora l'uomo in fin dei conti può decidere se utilizzare o meno le cose che esistono in relazione naturalmente poi anche alla questione del diritto positivo e alla consuetudine. Interessante notare quindi che esiste un certo tipo di collegamento tra la libertà d'arbitrio creduta da diversi di questi medievali ma anche una possibilità del diritto naturale che è permesso da Dio come naturalità ma poi anche come diritto positivo tra le parti come consuetudine del diritto. E d'altro canto se ci facciamo caso questi autori sono anche in certo qual modo lontani dalla concezione obsiana di homo homini lupus cioè in realtà tutti costoro o gran parte di costoro pensano e reputano che la proprietà o in ogni caso le relazioni sociali si fondino e possano fondarsi su un certo tipo anche di limitazione del conflitto cioè non sia possibile in questo caso e non sia conveniente tutt'al più opporsi al prossimo per confliggere col prossimo e per creare il bellum hominium contra omnes sarà solo Hobbes successivamente che teorizzerà questo tipo di modalità di stampo ostile partendo in certo qual modo dalle basi giudaico cristiane se effettivamente dobbiamo dirlo perché l'idea dello stato di natura in relazione allo stato civile non nasce nella modernità ma nasce nel medioevo e questo è un altro punto interessante che fa riflettere cioè l'idea che i medievali pensassero a un certo tipo di raziocinio di possibilità di limitazione del conflitto e di idea gius naturalistica di stampo universale come modalità della buona condotta razionale comprensibile tra gli esseri umani a un certo punto praticamente nel seicento verrà poi bypassato da Hobbes che teorizzerà in realtà una mancanza di questa razionalità come nuova razionalità intesa soltanto come diritto soggettivo che poi in realtà non potrà mai riguardarsi e non potrà mai essere collegato non potrà mai essere specificatamente collegato a un diritto oggettivo cioè per Hobbes non esiste il diritto naturale inteso come diritto oggettivo esiste solo il diritto soggettivo di fare ciò che piace ciò che interessa nella misura in cui si è nello stato di natura tale per cui se ciò accade cioè se si è nello stato di natura e si vuol fare ciò che interessa e l'uomo vuol fare ciò che interessa può prendere ciò che vuole nella misura in cui lo vuole e nel periodo nel tempo in cui lo vuole non esiste un diritto oggettivo da rispettare per i medievali non era affatto così cioè per i medievali esisteva un'idea di garanzia del diritto dio libero arbitrio possibilità di reciprocità e razionalità all'interno della buona condotta per cercare di mantenere i patti saldare i debiti e evidentemente restare in una condizione di patto sociale consuetudinario al di là del fatto che poi qualcuno spiega appunto questo tipo di consuetudine e con l'ingiustizia data Moedeva e con invece la questione del diritto naturale ecco che comunque l'idea di john locke sull'idea appunto delle reciprocità umana permane già nel medioevo cioè esiste come modalità del diritto naturale del mondo creato da dio primo trattato sul governo cioè l'idea che in certo qual modo esista un dio razionale che ha permesso un certo tipo di esistenza e poi un diritto naturale che già in certo qual modo relegato a una fondazione presociale locke dirà questo nel secondo trattato sul governo cioè l'idea che esiste una socialità che ha in sé un diritto che però è presociale in certo qual modo dove il diritto naturale presociale dove il diritto positivo è solo nella società naturalmente da un punto di vista realista sappiamo perfettamente come il diritto non esista come diritto presociale sarà solo il diritto come potenziale anzi come attualità sociale cioè il diritto esiste nella società Robinson Crusoe nell'isola deserta da solo non ha diritto finché appunto non arriva venerdì quando arriva venerdì ora c'è il diritto perché si è in due quando si è in società quando si è in gruppi c'è il diritto quando si è da soli no però per i medievali la concezione del diritto come anche modalità autentica di rapportarsi anche in modo presociale per avere quella razionalità sociale della buona condotta esiste e già era stata teorizzata in modi diversi ma è stata diciamo nello stesso modo ma con un basamento diverso cioè cercare di capire da dove sia derivata questa giustizia e in quale misura sia derivata però il basamento è lo stesso cioè l'idea appunto della razionalità ora è interessante notare che questa idea della razionalità si presume perché esiste un creatore che ha creato qualcosa cosa che nell'antica Roma nel periodo pagano nell'antica Grecia ovviamente non esisteva e infatti non esistevano neanche appunto Bibbie in questo caso sacre scritture specifiche politeiste non esistevano esisterà solo con il monoteismo in questo caso che in realtà dovrà collegare la questione delle sacre scritture alla questione poi del diritto canonico del diritto naturale in relazione anche alla questione feudale del diritto in relazione quindi ai sovrani e ai signori ai re questo è un altro punto importante che comunque ci spiega come i medievali pensavano da un punto di vista di teoria politica nel loro tempo e in fin dei conti ci mostra come ci sia un'anticipazione pertanto al senso moderno per alcuni punti di vista o diversi punti di vista in relazione quindi in particolar modo per esempio l'anticipazione a John Locke ciao